gentili telespettatori buona giornata giorgia meloni in europa spadroneggia altro che l'italia isolata l'italia alza la voce e li tiene svegli tutti fino alle tre di notte c'è un piano della meloni lei dice se il gioco si fa duro rispondo da uomo è il piano per sostituire la baronessa von der leyen vuole mezzola in commissione al posto della von der leyen e il gioco europeo delle elezioni del 2024 lo scontro meloni macron principalmente perché macron vede la meloni dilagare nel mediterraneo al consiglio europeo prendere il il timone del consiglio europeo delle decisioni e macron abbiamo visto nel video precedente ha cercato di rimproverare la meloni dicendo queste decisioni le abbiamo già prese le hanno già prese gli ambasciatori nell'altro giorno e la meloni dice scusa emmanuel o non capisco io come funziona il consiglio europeo ma il consiglio europeo è sopra le decisioni che hanno già preso gli ambasciatori quindi se permetti qua quello che sto dicendo è assolutamente corretto e macron è rimasto lì e la meloni dice e quindi e lui non ha saputo più cosa rispondere e caro macron la meloni è preparata sa quello che dice sa quello che fa pertanto non è salvini vi ricordate con salvini che litigavano caro macron guarda che la meloni non è salvini il giochino che facevi con salvini di attaccarlo con la meloni è un'altra cosa la meloni non è salvini caro macron fatelo spiegare che sono due persone completamente diverse e due partiti completamente diversi ma macron cerca di contrastare l'italia perché vuole fare il primo della classe è un esaltato macron è un esaltato si sente un cavolo in mezzo si sente il primo della classe in europa ma lui si sente ma non lo è non lo è l'idea della premier ha preso corpo dopo l'avvento a palazzo chigi nel corso dei ripetuti colloqui con il capo del ppe weber con cui lavora un patto tra popolari e conservatori in vista delle elezioni dell'europarlamento il progetto prevede l'anno prossimo di puntare su roberta mezzola come presidente della commissione espressione di una maggioranza di centrodestra che secondo i sondaggi attuali dovrebbe uscire vincente dalle urne quindi la meloni andrebbe a spadroniggiare anche in europa dove metterebbe una persona da lei stimata di centrodestra la mezzola come presidente della commissione europea perché i conservatori che in italia sono fratelli d'italia in europa sono i conservatori dove lei è presidente dovrebbero dovrebbero prendere il controllo anche dell'europa del parlamento europeo e quindi non più un parlamento come quello che abbiamo visto oggi un euro parlamento ma un'alleanza tra il ppe e i conservatori guidati dalla meloni quindi può la meloni cambiare anche faccia a quella che è l'europa e far diventare un'europa di centrodestra con tutto quello che può poi convenire il cambio anche delle delle visioni su migranti confini eccetera eccetera così la meloni da che doveva essere isolata diventa un problema per l'establishment europeo perché il disegno che ha ambizioso scardinerebbe gli assetti tradizionali a bruxelles quel sistema di potere che regge sul rapporto ppe pse e sullo storico asse franco tedesco per evidenti motivi macron ha un'idea opposta e il mancato invito della premiera alla cena con Zelensky e Schultz fa parte della strategia francese di contrastare il piano di meloni e di isolarla come racconta una fonta autorevole che ha contatti diretti con l'eliseo a palazzo chigi quindi il tentativo di macron di isolare la meloni non è perché è una cattiva nostalgica ma perché sta prendendo il controllo anche in europa sempre di più e scardinando poi l'asse franco tedesco è una spiegazione abbastanza realista anzi molto realista il suo rapporto con le istituzioni dell'unione europea quella della meloni riceve un plauso dal commissario dell'economia in europa gentiloni dice è assolutamente in continuità con il governo draghi perciò il gesto di macron non ha solo il tratto dell'affronto pubblico al governo se non al paese come ha detto ieri bonino alla stampa quella cena aveva un forte valore simbolico e politico incrociava la questione dei rapporti di forza tanto in europa quanto in occidente spingendo berlino a rompere gli indugi sull'invio su alcuni inviui a Kiev e intanto Francia manda così un messaggio anche agli stati uniti per fargli capire chi è che comanda in europa qual è il baricentro in europa e per rendere in influente l'appoggio di roma su cui l'amministrazione americana fa da un anno affidamento e soprattutto anche per anche perché in ambito prettamente militare l'italia come forza militare è il secondo paese in europa dopo la germania la francia è solo tra virgolette il terzo paese per capacità militare ma vuole dato che macron è un esaltato vuole mostrare a tutti a chiunque che lui è il centro dell'europa che tutto passa da lui che lui è che decide la presenza di zeleschi all'appuntamento è stata emblematica ovviamente ha accettato l'invito perché lui ha bisogno di queste relazioni i problemi che hanno gli altri fra di loro sono solo degli altri e poi così la meloni dice allora non avete capito dice la meloni in questi casi se qualcuno prova a fare il duro rispondo da uomo io e dovrei andare a parigi quando ci si comporta così con l'italia totalmente ragione arrivederci a tutti e grazie grazie